buongiorno a tutti provo a condividere direttamente io le presentazioni alla presentazione se poi avessi problemi di linea chiederò il supporto della comunicazione allora andiamo a prenderci la nostra presentazione ditemi poi se la vediamo correttamente eccoci qua allora due parole per poter introdurre le mie colleghe oggi andiamo a chiacchierare di quello che è il marketing di quello che è la profilazione non certamente per volervi spiegare la vostra attività quella che ogni business va a svolgere ma per potervi dare dei tips che possano essere interessanti anche lato privacy quando andiamo a creare una macchina e un'attività di questo tipo perché parlarne ora vi chiederete perché è oggi senz'altro l'attività che non viene bloccata dai provvedimenti anti covid è l'attività che può permettere a tutti noi di uscire dalla crisi è quell'attività che può portare anche un beneficio in termini diciamo di entrate di budget che purtroppo la odierna situazione sta un po' compromettendo quindi lo scopo oggi è quello di discutere di marketing e profilazione da un punto di vista privacy e comprendere quali siano gli step necessari e per poter realizzare questo processo di marketing e di profilazione vedere che cosa ottenerne in un termine di vantaggio di business. Il modo normativo in cui noi andiamo a muoverci al fine di disegnare delle attività di marketing e di profiling adeguate è il regolamento privacy europeo ormai lo conosceremo tutti a memoria è il nostro amico GDPR che è andato a sostituire la direttiva 9546 la mamma di tutte le nostre normative nazionali ormai dal maggio del 2018 e quindi da questa data che è applicabile che è enforceable con tutto il suo comparto sanzionatorio che arriva anche al 4% del fatturato di gruppo e le sanzioni come molti sanno si cominciano a vedere soprattutto nel mondo marketing e nel mondo di profilazione. Recenti sono le sanzioni a team per un marketing senza consenso oppure a deni luce gas per un marketing effettuato in modo non informato oppure senza i presidi tecnico ed organizzativi adeguati. Quindi quello che vorremmo darvi oggi sono proprio gli strumenti per poter realizzare un'attività adeguata in tempo di crisi. Il regolamento è andato a comportare anche un aggiornamento della nostra normativa nazionale interessante soprattutto nell'attività di marketing e di profilazione e pertanto quando andiamo a regolamentare questi processi teniamo in conto sia il GDPR sia il decreto 196 del 2003. In brevissima sintesi il regolamento ha comportato un importante cambio di passo perché ci ha chiesto di passare da un approccio totalmente formale della privacy dove tutti facevamo la stessa cosa per stare a posto quindi la Nadia Martini piuttosto che un ospedale piuttosto che il panettiere adottavano le stesse misure per andare ad effettuare le proprie azioni e attività e trattamenti di dati personali e siamo passati invece con il regolamento ad adottare un approccio di sostanza dove la privacy è fondamentamente il vestito di un sarto che viene disegnato su di noi. Su di noi come? Sulla base dei nostri trattamenti, sulla base dei nostri processi, sulla base delle attività che andremo a porre in essere. Oggi ci soffermiamo proprio sulle attività di marketing e di profilazione al fine di vedere come debbano essere poste in essere, quali siano le misure adeguate in questi casi e come dobbiamo darne prova ed evidenza. Ed è proprio questa prova, proprio questa evidenza che consiste e costituisce il principio di accountability, il principio di responsabilizzazione che il regolamento detta e che ci impone di andare a dimostrare di aver adottato delle misure tecniche ed organizzative adeguate per poter dimostrare l'allineamento alla normativa. È questo principio di accountability che si porta dietro una sanzione fino al 4% del fatturato di gruppo in via potenziale chiaramente che verrà perimetrata di caso in caso ed è un principio che come buoni titolari del trattamento, responsabili del trattamento piuttosto che buoni DPO se fossimo stati nominati dobbiamo tenere in considerazione nello svolgimento della nostra attività. Quindi quando andiamo a creare un processo di marketing e di profilazione, sei sono gli stream principali che teniamo in considerazione. Anzitutto facciamo in modo di fare un trattamento lecito, vuol dire che non potrò promuovere probabilmente la cocaina perché lecita non è. Andremo a fare un trattamento informato, informeremo adeguatamente i nostri interlocutori e le colleghe ci spiegheranno come. Andremo a fare un trattamento adeguatamente acconsentito laddove non sussistano delle eccezioni al consenso e ve ne sono. Ne parleremo anche in un'ottica di e-commerce e di sospam. E ancora faremo in modo di trattare i dati solo per lo scopo della raccolta, se li ho raccolti per scopi di servizio non li userò per scopi di marketing e di profilazione. E completando utilizzerò solo i dati che mi servono, non anche dati ulteriori, solo per il tempo della conservazione che è molto critico in fase di marketing e di profilazione va definito sulla base del vostro specifico business. Inoltre i dati devono essere aggiornati e devono essere adeguatamente protetti. Questo vale anche e soprattutto in una situazione di emergenza. Quindi per fare tutto questo sarà necessario porre in essere il consueto processo tipico del mondo di data protection e anche di cyber security. Dovremmo andare a fare una valutazione di rischio e impatto dei trattamenti, individuare con la remediation delle misure adeguate, mandarle a terra attraverso l'implementazione e andare a determinare anche un'azione di monitoring, quindi un'attività di monitoraggio continuo che l'azienda, l'organizzazione, anche col suo DPO deve fare con riguardo a questi processi. Ma come comportarci in concreto con il marketing e come con la profilazione? Lascio la parola proprio per l'attività di marketing alla collega fonda che ci illustrerà i relativi tips. Grazie a tutti. Grazie mille Nadia. Faccio solo un passaggio per verificare se Caterina riesce. Allora attiviamo il microfono di Caterina e proviamo a vedere le sue slide. Buongiorno a tutti. Eccoti. Ok ce l'abbiamo fatta. Allora iniziamo a vedere quindi il mondo del marketing e lo facciamo subito con il telemarketing. La premessa a questa attività è che in dipendenza dello strumento che noi andiamo a utilizzare informazioni essenziali, requisiti essenziali per costruire un'attività di marketing e in seguito anche di profillazione ad hoc. Quindi quanto più safe. Anzitutto per quanto riguarda il telemarketing dobbiamo capire che cos'è l'attività di telemarketing. È quell'attività, quell'offerta di prodotti o servizi che noi andiamo a fare attraverso strumenti come sono le telefonate con operatore. In questa parte specifica della disciplina c'è una regola specifica, un requisito specifico che è basato sul registro delle opposizioni. Ebbene oltre all'asse portante del trattamento che è sempre l'informativa comprensiva di tutti gli elementi dell'articolo 13 con il registro delle opposizioni noi titolari che vogliamo costruire un'attività di marketing con operatore dobbiamo recarci telematicamente sul registro delle opposizioni regolato da un istituto che è la fondazione Ugo Bordoni per verificare che la lista che noi la lista di utenti o anche il singolo utente che noi vogliamo andare a contattare non sia iscritto su questo registro perché se è iscritto su questo registro è analogo a una sorta di opposizione al trattamento. Quindi nel caso invece in cui non si è iscritto noi possiamo andare a fare l'attività di marketing regolarmente quindi non è necessario un consenso ma è necessaria questa verifica sul registro. Da un po' di tempo a questa parte... Caterina scusami, interrompo il video perché ci sono dei piccoli problemi di connessione quindi forse è un po' appesantita la rete, facciamo in modo che si vedano solo le tue slide purtroppo dobbiamo cercare di alleggerire un attimo altrimenti ti si blocca la voce. Stavamo dicendo che da un anno a questa parte si è introdotta una nuova aggiunta che è la possibilità di fare riferimento alle regole del registro delle opposizioni anche con riferimento al marketing in cartaceo. Quindi analogamente a quello che abbiamo visto per il telemarketing valgono le stesse regole. Il titolare che voglia mandare i propri deplian all'abitazione dei propri clienti o prospect lo deve fare verificando sempre il registro delle opposizioni. Se il cliente è iscritto a questo registro l'attività non può essere fatta ma sia nel caso del telemarketing sia nel caso del marketing cartaceo valgono due eccezioni. Vale a dire noi abbiamo un range temporale di 30 giorni a partire dal momento in cui il nostro cliente ha smesso di usufruire dei nostri servizi o di comprare i nostri beni in cui noi siamo legittimati a fare questa l'attività di marketing anche se c'è un'iscrizione oppure se c'è un consenso prestato successivamente all'iscrizione sul registro. In questo caso l'attività può essere fatta. Un ultimo bit in questa parte a partire dal primo dicembre di quest'anno sarà possibile consultare il registro delle opposizioni anche con riferimento ai numeri di telefono cellulare. Quindi le stesse regole valgono anche per i telefoni cellulari. Andiamo a vedere i requisiti del telemarketing. Molto brevemente un'informativa che come abbiamo visto è sempre la regina dei requisiti del nostro impianto privacy. La base giuridica attraverso cui noi facciamo questa attività non è propriamente un consenso ma è un opt out proprio avvalendoci del registro delle opposizioni e poi a supporto di questi requisiti ci sono tutti i pilastri che noi ci siamo costruiti nella fase di assessment. Quindi i registri del trattamento, una procedura valida ed efficace per quanto riguarda la gestione delle richieste dei diritti dell'interessato ma anche un'adeguata formazione ai nostri dipendenti, ai nostri incaricati e poi tutta una serie di misure adeguate ad esempio un privacy impact assessment quando lo valutiamo come opportuno e necessario e la nomina di un DPO quando anche questa è richiesta. Il seguito del marketing andiamo a concentrarci sull'e-marketing. In cosa consiste l'e-marketing? Consiste nell'attività di promozione svolta con l'ausilio di strumenti innovativi, con strumenti basati su nuove tecnologie come possono essere ad esempio l'invio di sms, anche whatsapp per esempio, l'invio di email e di telefonate pre-registrate. Quindi in questo caso a differenza del telemarketing senza l'operatore. Che cosa dobbiamo tenere a mente per costruire un e-marketing adeguato? Sempre, lo ricordiamo, un'informativa completa, fatta bene e poi è necessario un consenso in questo caso. Un consenso che può essere non considerato necessario a una condizione in un caso che è quella di offerta di prodotti e servizi analoghi a quelli che ha acquistato il cliente in precedenza. E questa è la regola del soft spam che andiamo a vedere subito con un focus interessante anche perché troviamo che sia adeguato a questo periodo un po' critico. Il soft spam ci può dare una grande mano nella nostra attività. Che cos'è innanzitutto il soft spam? È l'invio di email aventi ad oggetto prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati in precedenza. E la normativa non ci dice granché su che cosa si debba intendere con analogia, per cui è un nostro esercizio quello di interpretare il significato. A seconda del nostro approccio possiamo dare un'interpretazione estensiva e quindi ad esempio se noi siamo un'azienda automotive, vendiamo un'automobile, andremo a, dopo, in conseguenza dell'acquisto dell'automobile da parte del nostro cliente, andremo a offrire un RC auto, quindi un'assicurazione per l'auto con questo servizio ancillare, ma sempre facendo parte un po' della categoria dell'auto. Oppure possiamo interpretarlo un pochino più restrittivamente, un pochino più safe, in questo caso i prodotti devono essere strettamente analoghi, quindi noi vendiamo un nuovo modello, l'ultimo modello della nostra auto a qualcuno che l'ha comprato ha comprato il precedente qualche tempo fa. Diciamo che è prudente attestarsi in una posizione mediana tra queste due, valutando caso per caso come vogliamo muoverci. Per il marketing e il social spam abbiamo due tip, anzitutto per quelle aziende B2B noi ne abbiamo tante che consigliamo un po' in questo senso, se nella fase precontrattuale, che è quella solitamente dove noi riforniamo la nostra rubrica, la nostra rubrica di email, cerchiamo di raccogliere tutti gli indirizzi dei dipendenti, dei collaboratori, dei riferimenti dell'azienda che noi pensiamo di contattare in seguito, proprio avvalendoci del soft spam. Facciamolo perché così poi la nostra attività in seguito, sono comunque dei dati personali, anche quelli dei singoli dipendenti. Poi, in secondo luogo, ma non meno importante, un footer che incalcia... Cate, abbiamo perso Caterina. Allora, adesso valutiamo se riesce a subentrare magari Nadia. Sì. Eccoti. Non so se la connessione, se ha problemi la connessione Cate, ma mi è sparita anche la condivisione dello schermo, per cui questa cosa me la posso fare io, senza problemi. Oggi la rete dà le bizze, probabilmente. Sì. Eccoci Cate, che abbiamo ripreso. Adesso che abbiamo ripreso. Lascio la parola Cate. Va bene, salvata in corner. Perfetto, vuoi riprovare tu a condividere? Vediamo se regge oppure... Sì, va bene. Facciamo una prova. Al massimo, se ti salta, te lo condivido volentieri io e andiamo avanti insieme con le slide, insomma. Ok, allora adesso io sto... Vedete le mie slide in questo momento? Non ancora. Allora, qua. No, Marta, devo chiedere una mano a te perché apparentemente non mi è possibile. C'è, non c'è assolutamente problema. Allora. Io sono alle newsletter, quindi il marketing via newsletter è Dem. Perfetto, adesso andiamo avanti. Queste le abbiamo già viste. Poi, ecco, approfitto per dire che faremo avere comunque le slide alla fine del webinar, quindi saranno disponibili. Insieme, naturalmente, anche alla registrazione della spiegazione del webinar intero. Allora, dovremmo quasi esserci. Così tu riesci a vederle, Kate? Riesci a seguirle? Certo, io ho sotto le mie, quindi faccio riferimento a queste. Allora, siamo qui, il marketing via newsletter è Dem. Sì, esatto. Perfetto, perfetto. Ci siamo, grazie mille. Vai, ci mancherebbe. Allora, abbiamo parlato del soft spam, andiamo ora, saltiamo ora sul marketing via newsletter, che è un po' il fratello del soft spam. Anche lui è un buono strumento in questo momento, perché tendenzialmente c'è un buon, vediamo un buon grado di risposta, di responsiveness da parte degli utenti che ricevono le newsletter. Costano poco, tra l'altro, quindi un buon balance tra il costo e l'efficacia. Una newsletter virtuosa by design, come deve essere costruita? Allora, anzitutto prevedere un consenso quando è necessario, quindi quando non si può basare sul soft spam che abbiamo appena visto, con un'informativa. Quindi solitamente l'ending page, ad esempio, del nostro sito web, prevediamo una breve informativa, come quella che abbiamo proprio in questa slide, che ci illustri in che cosa consiste il servizio di newsletter e sempre, ad ogni invio, un footer con la disiscrizione. Questo è davvero importante. Tra le altre cose, proprio in disegno, può essere una buona idea pensare a se inserire qualcos'altro, qualcosina in più. Per esempio, un consenso per la profilazione. In questo caso, noi lo andiamo a pensare fin dall'inizio e così poi possiamo andare a inviare delle comunicazioni un po' targettizzate ai nostri utenti. Il soft spam e la dem, quindi sempre un piccolo remind per i requisiti, informativa, opt out e unsubscribe, ricordiamocelo sempre. A meno che nel caso della newsletter non ci sia un consenso, perché non ci si può basare sull'opt out del soft spam. E poi tutte le nostre misure che ci siamo costruiti, abbiamo elaborato in precedenza. E poi c'è l'e-commerce che dribbla, abbiamo fatto un po' un'assonanza calcistica il virus e ci può aiutare molto in questo momento. Lo abbiamo visto anche con un'indagine di Nielsen che ci ha detto che proprio in questo mese si è avuto un più 80% di vendita dei prodotti online rispetto all'anno precedente. Per cui anche magari le persone più anziane si sono dovute adattare a questo periodo e hanno acquistato dei prodotti online. Ma qual è la via per un e-commerce a prova di privacy? Allora, anzitutto, siccome questo è un po' l'apice della nostra attività sul web, perché? Perché la nostra attività di marketing si collega senza soluzione di continuità con la vendita. È tutto lì. E allora dobbiamo pensarlo bene, in fase precedente all'atteraggio sul sito, quindi durante la nostra attività di marketing, una buona informativa come l'abbiamo vista in tutte le nostre possibili variazioni e sfumature di attività di marketing. E poi sulla navigazione del sito, quindi quando il nostro utente, il nostro cliente, atterra sul nostro sito web, deve avere sempre accessibili un'informativa e una cookie policy. Poi sulle cookie ci darà molti bit in aggiunta la mia collega Valeria Specchio in seguito. In fase di acquisto, quindi quando il nostro utente si determina ad acquistare, ebbene anche in questo caso un buon link all'informativa privacy. Il consenso, per quanto riguarda il consenso, deve precedere l'attività di marketing, lo abbiamo visto in precedenza, ma ci può essere anche l'analogo del consenso, quindi la verifica in RPO, quindi nel registro delle pubbliche opposizioni. Non serve il consenso, questo è bene ricordarlo, per l'attività di e-commerce per il mobile payment e invece occorrono tutte le misure di sicurezza che sono proconfidenzialità, per esempio. Quindi sistemi di autenticazione forte, procedure di tracciamento degli accessi e operazioni di trattamento e il mascheramento dei dati con criptografia. Poi anche delle misure contro il rischio di incrocio di diverse tipologie di dati, per cui ricordiamoci che occorre nei vari bacini di nostra raccolta dei dati, di tenere ben distinti, per esempio, i dati di navigazione dai dati di consumo. Quindi anche in questo caso il disegno è tutto. Il disegno è tutto anche per il documento strettamente legale. Diciamo che in linea con le attività del business, che specie nelle e-commerce sono molto vicine all'utente, molto intente a rendere chiara l'informazione, sia per un tema di business, quindi legittimamente voler vendere il prodotto, però anche per mettere al centro davvero l'utente che deve capire bene che cosa acquista, come lo acquista. La privacy non è da meno. Anche lei deve farsi con partecipe di questo processo. Chiarezza, trasparenza, accessibilità e comprensibilità sono tra i cardini, i principi ispiratori del GDPR. Come possiamo farlo? Possiamo farlo con un documento come quello che vediamo in questa slide, un po' tutto obnubilato, tutto annebbiato, ma i nostri amici sulle slide sono un po' scettici. E forse fanno diventare scettici anche noi che li facciamo questi documenti. Quindi noi ci andiamo ad adattare, cerchiamo di venire incontro al business, ma in primis davvero all'utente, quindi mettendolo al centro, con un'informativa chiara ed accessibile, senza fronzoli, ma che fin dalle immagini, dalle icone renda vicina la privacy. In questo modo cosa creiamo? Compliance, fiducia e engagement. E cosa diventa quindi? L'informativa, come altri documenti privacy, uno strumento di business non da meno. I requisiti dell'e-commerce, quindi andiamo nuovamente a vederli in breve, l'informativa che abbiamo visto può un attimino evolversi anche lei, come tutti i nostri documenti privacy, farsi smart, farsi accessibile, consenso o opt-out e tutte le misure alla base. E poi c'è il marketing mediante i social network, questa è un po' l'evoluzione rispetto al telemarketing che abbiamo visto all'inizio, in questo caso l'attività di marketing è fatta sul social, alcune regole poche ma buone per farla in maniera adeguata. Anzitutto, lo ha detto il garante in tutte le salse, il trattamento dei dati che noi facciamo a partire dal social network non è diverso da quello che noi facciamo nelle altre sedi, per cui le regole del gioco valgono anche qui. Noi non possiamo pensare di andare a contattare sulla mail che abbiamo trovato, su Facebook ad esempio, il nostro prospect senza nessuna base giuridica adeguata, quindi senza un consenso quando questo è richiesto. Dobbiamo tenere a mente le stesse regole che abbiamo visto. Un temperamento a questa disciplina è quella del fan page, ad esempio dei follower, che mediante l'adesione a queste pagine dove è chiara l'interesse per determinati prodotti, della nostra azienda, in questo caso se è inequivocabile che con l'iscrizione alla fan page l'utente ha dato il proprio interesse e consenso a ricevere queste comunicazioni, noi possiamo farlo anche senza un consenso esplicito. Marketing virale, quindi l'inoltro di una proposta promozionale non necessita di consenso quando questo è fatto a titolo personale, quindi anche se facciamo parte di un'azienda, ma offline con i nostri contatti privati diffondiamo le idee della nostra azienda, i prodotti della nostra azienda a titolo personale perché ci sentiamo di farlo, possiamo farlo senza un consenso perché non è un'attività dell'azienda, questo ci è capitato proprio ultimamente di consigliarlo. Poi il social marketing con i pixel, questo è uno strumento proprio di Facebook, che cos'è il pixel? Il pixel è uno strumento che traccia l'attività degli utenti e consente al titolare, all'azienda di avere un ritorno, un feedback sulla risposta dell'utente alla sua attività online sul nostro sito, per esempio con l'inserimento dei articoli nel carrello, i click sull'inserzione all'interno del social network dei nostri contenuti e quindi diciamo è un grande termometro della nostra attività. Perché non usarlo? Possiamo farlo sempre tenendo un occhio, dando un occhio alle policy di Facebook che sulla sua pagina ci spiega un pochino come costruisce questa attività. Vediamo anche un'evoluzione del pixel, custom audience. Custom audience abbiamo due modalità attraverso le quali Facebook ci dà una mano nel comunque promuovere i nostri prodotti, anzitutto a partire da un nostro elenco, quindi un match di indirizzi mail e un successivo hashing dei dati che avviene prima del caricamento su Facebook e che poi consente un incrocio tra la nostra lista e gli utenti che sono iscritti sul social network di modo che ci possano essere dei messaggi all'interno del social network. E poi c'è la custom audience, l'abbiamo chiamata su misura, in questo caso l'utente seleziona un po' il proprio target, quindi il luogo, l'età, il genere degli utenti, la lingua dell'utente, quindi questo consente una targetizzazione piuttosto dettagliata. inclusione o esclusione sulla base dei criteri che noi impostiamo, demografici, interessi, comportamenti. Quali sono le regole per un buon social marketing? Sempre l'informativa, la regina, la cookie policy del social, ma anche nostra, ricordiamocelo bene perché è un'attività in stretta connessione con il sito web, lo andiamo a vedere bene adesso a brevissimo con la mia collega Valeria Specchio, poi il consenso al social e all'azienda titolare attraverso i cookie, anche questo a brevissimo, e tutte le misure. Io direi che i tempi sono maturi per passare la palla a Valeria che ci parlerà per bene, approfonditamente, della profilazione. Benissimo, Cato, ti ringrazio. Allora, io stoppo la mia condivisione. Chiedo a Valeria se vuole condividere lei le sue slide oppure se preferisce che prosegua io. Io posso provare con le mie. Benissimo. Perfetto. Sì, ti vediamo, ti sentiamo perfettamente. Ok, perfetto. Io non so se... Siamo nella tua connessione. Non so se magari è più opportuno togliere il video per questioni di velocità di rete, di supporto. Ma sì, magari puoi toglierlo e ti chiedo anche di mettere la presentazione come full screen, così la vediamo in maniera più chiara. Certamente, per farla full screen. In basso a destra, dove vedi la barretta più o meno. Ci sono quei simbolini lì sotto. In basso, sotto alla finestra del PowerPoint. Si sta pixelando tutto. Marta, non so se mi vuoi aiutare tu o magari... Allora, guarda... Sì, sì, sì. Allora, vedo che si stanno caricando delle cose, quindi probabilmente... Perché ho la barra in alto adesso e no... Ok, allora guarda, te lo condivido io e ti seguo nella spiegazione. Così siamo tranquilli. Allora... Un secondo solo... Eccoci qua. Quindi riprendiamo... Da dove aveva lasciato Katia... Sì, quindi Katarina... E stiamo qua con te le tipologie requisiti di profilazione. Esattamente. Katarina ci ha già un po' anticipato alcuni punti, alcune tematiche. Abbiamo esplorato un po' abbastanza a fondo quelli che sono tutti i profili del marketing, delle sue declinazioni e adesso andiamo a vedere qual è l'altro elemento del binomio che accompagna il business ai tempi delle tecnologie, ossia la profilazione. Questa attività è disciplinata nuovamente all'interno del regolamento europeo. Diciamo la novità introdotta dallo stesso è il fatto che come attività di trattamento è disciplinata dal punto di vista di trattamento meramente automatizzato. Quindi non è previsto il caso in cui la profilazione venga effettuata mediante intervento umano, cosa che invece era prevista dalla precedente direttiva europea. Ovviamente ciò non è escluso, però il regolamento si focalizza comunque sotto questo punto di vista, quindi il processo decisionale automatizzato. All'articolo 4 infatti il GDPR va a definire la profilazione come un processo decisionale automatizzato di dati personali che vengono utilizzati per andare a valutare determinati aspetti che siano relativi ad una persona fisica, quindi per andare a valutare la sua situazione economica, il suo rendimento professionale, la salute, le preferenze personali, gli interessi, tutto ciò che può contribuire al disegno della persona e dell'interessato. Sono quindi tre gli elementi che il regolamento va a identificare e sono il trattamento automatizzato, come abbiamo detto, il fatto che vengono trattati dei dati personali, quindi differenti a persone fisiche, questi dati vengono conferiti direttamente dall'interessato oppure vengono raccolti sulla base di quel trattamento automatizzato che ci raccontavamo e vengono utilizzati per finalità di analisi in via statistica o per andare a effettuare delle analisi a livello predittivo. Com'è cambiata l'attività di regolamentazione e dell'attività di profilazione nell'arco del tempo? Abbiamo anticipato che la precedente direttiva 9546 della Comunità Europea, che è stata poi ricevita con il decreto legislativo 196 del 2003, ossia il vecchio codice privacy, andavano ad impostare determinate requisiti per andare a effettuare attività di profilazione. Questi requisiti poi sono stati successivamente avallati, in particolare da un provvedimento del garante italiano del 24 febbraio del 2005, lo andremo a vedere più da vicino tra poco, però gli elementi che sono stati individuati come requisiti essenziali ai fini di poter porre in essere un trattamento di profilazione sono stati innanzitutto la necessarietà di erogare un'informativa all'interessato, quindi renderlo edotto di quelli che sono le modalità, le finalità e le tipologie di dati che vengono raccolti e trattati ai fini dell'attività di profilazione. Inoltre, essendo comunque all'epoca previsto il trattamento di profilazione anche sulla base di un intervento umano, l'unica base giuridica che veniva considerata per legittimare il trattamento era quella del consenso, se l'interessato doveva prestare il proprio consenso altrimenti l'azienda o il titolare non poteva porre in essere il trattamento. Sono sempre alla slide prima. Inoltre, un ulteriore requisito era quello di conservazione dei dati per un periodo massimo di 12 mesi, quindi dati raccolti mediante attività di profilazione poteva raggiungere un massimo di un anno. Inoltre, nel caso di dati particolarmente impattanti, doveva essere previamente notificato al garante questo trattamento dal fine di richiedere una verifica preliminare dell'autorità stessa. Come è cambiata invece la situazione dal punto di vista della regolamentazione da parte del GDPR? Vediamo che oltre all'articolo 4 che va a definire il processo di profilazione e la definizione stessa del processo, troviamo anche l'articolo 22 che va a introdurre un diritto dell'interessato che è quello a richiedere l'intervento umano nell'ambito di una decisione veramente automatizzata. Quindi, oltre all'obbligo di informativa che permane, troviamo questo diritto a richiedere l'intervento umano. Basti pensare alle attività di credit scoring, quindi erogazione del credito, che vengono effettuate sulla base di algoritmi, quindi sistemi che vengono utilizzati dagli istituti di credito. L'interessato, qualora sia ad esempio una donna nubile allo stato civile, con un determinato rendimento professionale, al momento dell'erogazione del credito, può richiedere l'intervento umano al fine di contestare quella che è stata magari l'individuazione fatta dal sistema a prima fase. Inoltre troviamo un'ulteriore novità. Abbiamo detto che, appunto, essendo previsto come processo decisionale automatizzato all'interno del regolamento, la base giuridica per fondare il trattamento stesso non è più unicamente il consenso, ma troviamo anche la possibilità di fondare il trattamento all'interno dell'adempimento di obblighi precontrattuali o contrattuali, oppure sulla base di autorizzazioni previste da norme di legge. Su questo ritorneremo tra pochissimo, ma vediamo quali sono gli ulteriori obblighi. L'obbligo per il titolare è sicuramente di adottare misure tecniche e organizzative, come vuole il GDPR stesso all'articolo 32. l'obbligo di effettuare una PIA o di PIA, ossia valutazione di impatto, sul trattamento al termine della quale potrà essere individuato il tempo di retention più idoneo a quel determinato trattamento. Questa è una delle grandi novità importate dal GDPR stesso, ossia la possibilità per il titolare di andare a individuare i tempi più consoni di conservazione dei dati personali raccolti nell'ambito dei trattamenti. dei dati personali stessi, ovviamente entro i termini perimetri normativi. Riscontriamo inoltre l'obbligo di nominare il DPO, nuova figura, Data Protection Officer o responsabile per la protezione dei dati, nel momento in cui la profilazione vada a riguardare un trattamento effettuato su larga scala. Ricordiamo che il trattamento è su larga scala quando va a riguardare un numero particolarmente elevato di interessati, un numero particolarmente elevato di dati personali o un trattamento sistematico di categorie particolari di dati personali o di dati giudiziali. Conseguenze, sanzioni, sanzioni che possono arrivare fino al 4% del fatturato mondiale anno di gruppo dell'azienda. Parlavamo prima di basi giuridiche sulle quali è possibile fondare l'attività di profilazione, quindi abbiamo visto non solo più solamente il consenso, ma anche la possibilità, qualora il trattamento non possa essere effettuato mediante mezzi e metodi meno invasivi, è possibile fondarlo sulla base di avventimenti di obblighi precontrattuali e contrattuali. Basti pensare ad esempio all'abbonamento che ho ad una PayTV, sulla base del quale il servizio prevede l'utilizzo di tecnologie e di dispositivi che per loro stessa natura comportano un'attività di profilazione delle informazioni che gli utenti vado a dare a quel determinato dispositivo, al fine di migliorare la mia customer experience, al fine di propormi contenuti che sono più in linea con le mie stesse preferenze. Abbiamo visto ulteriore base giuridica sulla quale fondare il trattamento è la profilazione autorizzata ovviamente da una legge che sia nazionale o comunitaria, quindi dove c'è la legge ovviamente è consentito il trattamento. Poco fa vi ho parlato di un provvedimento del Garante Italiano del 2005 riguardante l'utilizzo di Fidelity CARS. Questi sono stati uno dei primi strumenti che sono stati utilizzati dalle aziende per effettuare attività di profilazione, diciamo è uno strumento effettivamente che aiuta a stringere i rapporti con l'utente stesso, ad ingolossirlo verso determinate offerte, verso determinati prodotti, magari offrendogli in cambio accesso a determinate scontistiche, la ricezione di premi, però mi permette allo stesso tempo di avere uno storico di quelli che sono i suoi acquisti e di conseguenza di andare a disegnare un suo profilo. Posso capire quali sono le preferenze, quali prodotti acquista diciamo con più frequenza. A tal proposito vi riporto un fun fact, magari alcuni di voi hanno già avuto modo di esserne a conoscenza, però accadeva proprio in materia di utilizzo di Fidelity CARS che qualche anno fa in Minneapolis una giovane liceale aveva scoperto di essere incinta. Sin dalla fase della scoperta di questa condizione, successivamente aveva effettuato una serie di acquisti presso una catena di generi parafarmaceutici, profumeristici, insomma tipici del mondo anglosassone e dopo qualche mese ha ricevuto a casa un coupon, coupon che offriva una scontistica su prodotti di abbigliamento per neonati. Questo coupon è stato ritrovato non dalla ragazza stessa ma dal padre, il quale era ignaro di tutta la situazione e si è rigato presso il punto vendita reclamando allo store manager quanto fosse poco etico che una ragazza minorenne ricevesse determinate offerte e si trattava di incoraggiamento a comportamenti poco consoni con una minore. Quindi di conseguenza è venuto a scoprire così che sua figlia era incinta. Al di là della curiosità della situazione possiamo andare però ad estrapurare alcuni noccioli fondanti riguardanti il trattamento attraverso le fidelity card e profilazioni in generale. Innanzitutto cosa c'è che non va? Che è stata effettuata in quel caso e comunque ribadiamo che la profilazione di minori è vietata. Anche infatti il Working Party 29 ex Working Party 29 che era istituito insieme alla Commissione Europea attuale di European Data Protection Board nel 2017 aveva emanato un parere appunto sulla profilazione vietando la profilazione sui minori. Perché? Perché sono soggetti vulnerabili sono soggetti che non hanno ancora acquisito la capacità giuridica non hanno la percezione di quelli che sono i rischi o comunque i linguaggi i tecnicismi tipici del mondo legale. Di conseguenza sono considerati soggetti particolarmente meritevoli di tutela. Altra cosa il citato provvedimento del garante va a vietare il trattamento di profilazione di dati che siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato un elemento che invece ritroviamo nella nostra storia. Inoltre importante ovviamente diciamo per aver ricevuto in quel caso la ragazza una comunicazione di una scontistica di generi che erano totalmente differenti rispetto a quelli che effettivamente offriva la catena coinvolta nel caso si presuppone che ci fosse dietro anche un consenso di comunicazione a terzi per finalità di marketing al fine di far quadrare la quadra che di base non quadrava scusate il gioco di parole. Comunque abbiamo visto quindi qual è stato diciamo il principio la profilazione che avveniva mediante uno strumento proprio materialmente esistente ossia la Fidelity Card. ovviamente ormai la profilazione ha avuto modo di affinarsi in tutte le sue tecniche in tutte le sue declinazioni conosciamo meglio la profilazione online. La profilazione online avviene sia all'interno di siti web sia attraverso le applicazioni grazie a degli strumenti famosi che come anticipava la collega Podda sono sicuramente strumenti ormai imprescindibili parliamo dei cookies premetto che non mi dilungherò molto sul tema cookie in questa sede dal momento che saranno oggetto anche di un webinar dedicato all'e-commerce quindi ribadiamo l'invito per la seconda metà di aprile se non erro quindi mi focalizzerò principalmente sui cookie che adesso ci interessano sono quelli di profilazione sicuramente diamo un po' un'infarinatura di che cosa siano questi cookies i cookies non sono altro che dei file di testo contengono dei codici alfanumerici e sono dei marcatori questo è il nome che viene dato soprattutto all'interno dell'ottima bozza di regolamento di privacy che doveva ancora in corso di stessura e di emanazione sono dei marcatori che appunto vanno ad ancorare una determinata informazione presente all'interno del web a delle informazioni che io utente attraverso il mio indirizzo IP mio codice MAC l'indirizzo URI e tutte le altre informazioni relative ai dati di navigazione vado a dare con riferimenti in particolare ai cookie di profilazione sono previste determinate accortezze innanzitutto la richiesta di consenso questa richiesta di consenso deve essere in opt-in non in opt-out questa è una delle poche certezze che abbiamo imparato nel corso di questo tempo e durante la vacanza di una certezza normativa che anche grazie ad alcune sentenze sia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea stessa sia di alcuni provvedimenti da parte delle autorità vediamo il caso Welling Airlines vediamo il caso che è a Spagna che stanno appunto prendendo questa direzione che comunque anticipata anche dall'ultima bozza del regolamento e-privacy di richiesta di consenso in opt-in all'utente possibilmente il consenso deve essere richiesto in maniera granulare quindi con la possibilità di accettare di fiutare tutti i cookie ma anche di gestire le varie preferenze e abbiamo introdotto quindi anche il concetto di banner cookie cos'è il banner cookie? è quello strumento che inizialmente nel momento in cui vado ad atterrare sul sito web su la landing page mi va a fornire informazioni vediamo qui un esempio tratto da un sito che probabilmente come genere va un po' a essere un genere di bene facilmente usufruito in questo periodo siamo diventati un po' tutti i pasticceri durante questa quarantena quindi abbiamo scelto un esempio calzante vediamo qui in questo caso il banner cookie che va a riportare sia la parte di descrizione di finalità dei cookie che vengono utilizzati all'interno del sito web sia a rimettere la possibilità di accettare tutti i cookie così come di poterli selezionare vediamo ovviamente la possibilità di selezione avviene attraverso una finestra di management delle preferenze dei cookie come abbiamo anticipato quindi il cookie deve essere in opt-in successivamente nell'altra slide vediamo un esempio di come anche per alcuni clienti possiamo andare ad identificare l'impostazione migliore di gestione dei cookie ovviamente ogni caso è a sé stante quindi di conseguenza si andrà ad impostare il banner cookie la cookie policy nella maniera più complacente alle esigenze ovviamente del business del caso requisiti ovviamente ancora una volta l'informativa requisito il consenso quindi anche i cookie sono sottoposti all'accettazione in opt-in ricordiamoci in opt-in di dietro di profilare minori ovviamente questo diciamo va anche un po' a cozzare con quelle che sono effettivamente le esigenze di quelli che sono i business dedicati all'attività dei minori come cosa succede a quelle aziende che stanno fermando la produzione sempre nel mondo toy quelle aziende che stanno sviluppando applicazioni dedicate ai ragazzini che alla fine è vero sono minori però le abilità tecniche comunque esistono ebbene ogni caso come detto è a sé stante misure adeguate devono essere adottate all'interno dell'azienda quindi parliamo di oltre a quelle che abbiamo visto riguardanti la PIA o di TIA l'obbligo di nomina di un DPO nei casi che abbiamo visto importante e fondamentale è un principio che viene spesso messo da parte ma è uno dei principi fondamentali e portanti del GDPR stesso parliamo dei principi di privacy by design cosa vuol dire questo principio che nel momento in cui io in azienda vado a sviluppare un nuovo progetto e questo progetto scopro comunque andare a coinvolgere un trattamento di dati personali sin da quel momento mi deve scattare un campanello di allarme che mi porta a ragionare su quali possono essere le modalità di corretta gestione di quel trattamento a livello di normativa di protezione dei dati personali ad esempio se io ho ristrutturato il mio sito web ultimamente non è che mi vado a porre esposto il problema del fatto oh mio Dio ma io non ho il banner che è conforme agli ultimi orientamenti normativi e giurisprudenziali di conseguenza questo comporterebbe anche un effort maggiore in termini di tempo in termini di risorse in termini economici anche dover rifare tutto da capo quindi a maggior ragione è opportuno tenere presente questo principio sin dall'inizio sin dall'inizio della creazione del progetto nella sua fase più embrionale i cookie abbiamo visto essere presenti all'interno di siti web ma sono presenti anche all'interno delle applicazioni ovviamente io un sviluppatore vado ad utilizzare i cookie al fine di poter migliorare la prestazione del mio business le mie offerte e vuoi anche perché hanno un'interfaccia che è un po' più vicina all'utente stesso riesco ad avere un suo profilo diciamo più completo con riferimento a quelli che sono i suoi acquisti le sezioni più visitate all'interno dell'applicazione quindi si parla di web app marketing e app analytics in questo caso l'informativa che dovrà essere erogata sarà erogata sia da parte dello sviluppatore dell'applicazione sia da parte del produttore stesso e quindi fornitore del servizio in sé e il tipo di marketing che è strettamente connesso alla profilazione effettuata attraverso l'applicazione è appunto il cosiddetto web app marketing una declinazione dello stesso è il marketing di prossimità proximity marketing o geo marketing questo va a sfruttare un particolare tipo di dato personale dell'utente che sarebbe il dato di geolocalizzazione quindi attraverso il GPS o comunque le informazioni che vado a raccogliere mediante un bluetooth connessione wifi vado a individuare la posizione dell'utente e di conseguenza i servizi che riesco io in qualità di produttore ad offrire a quell'utente in quel determinato raggio di azione possiamo vedere in questo caso esempi di web app marketing sono ad esempio applicazioni all'interno delle quali riesco a gestire non so tutto il viaggio dalla zeta dal volo all'effettiva scelta del soggiorno del luogo di destinazione quindi quanti giorni voglio stare vado a inserire una serie di informazioni tutte queste informazioni che io vado a inserire possono portare o alla completazione al completamento della prenotazione oppure magari ci penso su non lo so nel frattempo mi sono fatta un'idea ci ritorno dopo cosa succede più delle volte che tempo neanche non lo so un giorno mi arriva con la notifica push o l'email che mi ricorda di completare la prenotazione perché i prezzi potrebbero salire oppure ancora una volta che torno dal mio soggiorno mi ricevo l'email o la notifica push che mi propone delle offerte simili a quelle che ho scelto per effettuare il mio viaggio sono tutti esempi di web app marketing un altro magari anche più calzante con quella che è la situazione del momento è quello che avviene attraverso le applicazioni per allenarsi ormai quasi tutti abbiamo scaricato l'applicazione per allenarci in casa anche io ne utilizzo una in particolare e quindi sappiamo che tutti i dati di allenamento che noi andiamo a inserire all'interno di queste applicazioni vengono utilizzati ovviamente dall'azienda io azienda ho interesse a capire qual è la frequenza di allenamento dell'utente ho interesse a capire quanto effort ha impiegato quel determinato allenamento quante volte si vuole allenare la settimana al fine di offrirgli una customer experience che sia migliore e al fine a me di poter io stesso migliorare e implementare la percezione e la percepibilità di quella determinata tipologia di allenamento comunque anche di fruizione dell'applicazione stessa molto spesso questo arriva a portare ad esempio a dei rewards all'utente da parte del titolare ad esempio dopo un tot di minuti che io raggiungo di allenamento ricevo la possibilità di accedere a determinate scontistiche oppure ancora nei momenti in cui non sono costante nel mio allenamento ricevo la possibilità di poter adattare il mio piano anzi si adatta da solo secondo quelli che sono gli input che io stesso che io utente ho dato all'applicazione quindi sono esempi di web app marketing esempi di proximity marketing sicuramente stanno fiorendo ultimamente anche con riferimento alla possibilità di poter ricevere a casa nel raggio d'azione più vicino beni e servizi di prima necessità ovviamente in questo caso però comunque vanno a sfruttare quella che è la mia posizione e vanno di conseguenza a sfruttare anche quelle che sono tutte le altre caratteristiche tecniche che possono essere dall'utilizzo dei cookie di profilazione per andare a vedere però effettivamente io a quale prodotto sono più interessato magari se sono interessato a ricevere un'offerta poi successivamente su quella marca di latte insomma sono tutte nuove esperienze che si stanno coltivando soprattutto anche in questo periodo quindi è un'importante opportunità per le aziende di poter andare a implementare a raffinare anche quelli che sono i processi di profilazione ovviamente andando a rispettare tutti quelli che sono i requisiti abbiamo visto nel caso di web app marketing e proximity marketing la possibilità di erogare all'utente anzi il dovere di erogare all'utente all'informativa che sarà doppia sia da parte dello sviluppatore sia dalla parte del produttore andare a richiedere il consenso sia nei momenti in cui vado a richiedere l'autorizzazione e l'installazione dell'applicazione sia nel momento in cui vado ad effettuare attività di profilazione e di marketing profilato o comunque collegato alle attività stesse che io vado a offrire all'utente stesso tutti questi trattamenti devono essere riportati all'interno d'Europa ossia records of processing activities i registri del trattamento e andare a rispettare tutte quelle misure adeguate ovviamente che sono previste dal GDPR anche in questo caso abbiamo un'opinion dell'ex working party 29 che è la numero 2 del 2013 dedicata appunto all'attività di profilazione strettamente connessa all'attività di profilazione e questi casi che abbiamo appena visto è quella tipologia di comportamento online dell'utente cui è connessa una proposizione di advertising mirato si parla in questo caso di online behavioral advertising anche a questo è stato dedicato una parere da parte dell'ex working party 29 nel 2010 però la cosa bella è che è assolutamente attuale va a riprendere esattamente quelle che sono le previsioni anche del regolamento quindi anche a livello di esempi assolutamente risulta tutt'altro che risalente sono passati comunque 10 anni andiamo a vedere quindi che cosa si tratta si tratta di andare a studiare quelle che sono le interazioni dell'utente nell'ambito delle sue ricerche nell'ambito della navigazione online attraverso l'inserimento di parole chiave produzione di contenuti stessi da parte dell'utente oppure visite ripetute dei siti web al fine di andare a sviluppare quelle che possono essere delle offerte mirate con riferimento a prodotti che io web posso avere intuito essere di interesse di quell'utente ovviamente tutto avviene attraverso cookie tracking cookies come abbiamo visto in precedenza ma soprattutto il working party si individua due tipologie di profili che possono essere ricostruiti dell'utente attraverso l'OBA ossia i productive profiles sono quei profili che vengono ricostruiti sulla base di input che l'utente dà sono dei segnali non solo delle proprie informazioni ad esempio io un tot di volte effetto una ricerca prima scrivo pane poi cereali poi probabilmente sto cercando la ricetta per fare il pane integrale e di conseguenza mi arrivano poi tutti i banner di advertising con riferimento a quella tipologia di prodotto oppure ancora si tratta di explicit profiles ossia profili che vengono disegnati proprio perché io utente ho dato delle informazioni al web nell'ambito ad esempio della registrazione di un sito web ho espressamente detto quali sono i prodotti che mi interessano quali sono le categorie ovviamente questi profili possono essere combinati tra di loro così come possono essere combinati all'interno di comportamenti all'interno di app quindi andando a combinarsi anche con i web app marketing così come anche con i proximity marketing il tutto portando ad una possibilità di andare a definire gli utenti in clusters quindi in liste e al fine di individuare sulla base di quella che è l'occorrenza come ad esempio in base alla tipologia di prodotti di interesse in base alle fasce di età vado a targetizzare le attività di marketing e quindi di conseguenza anche di profilazione i requisiti sono sempre gli stessi informativa richieste di consenso di vieto di profilazione dei minori ancora una volta lo ritroviamo anche con il riferimento all'online behavioral advertising di vieto di profilazione di dati particolari e l'adozione di misure adeguate abbiamo visto finora quali sono le declinazioni dell'attività di profilazione in sé per sé abbiamo visto quali sono i dispositivi o meglio gli strumenti che aiutano ad utilizzare questa attività però effettivamente concretamente quali sono i dispositivi mediante i quali io vado a raccogliere queste informazioni è un po' di tempo un bel po' di tempo che abbiamo imparato a convivere non solo con gli umani ma proprio con dei veri e propri dispositivi ci riferiamo alle categorie di Internet of Things anche qui abbiamo un working party dedicato che è il numero 8 del 2014 e il quale andava a identificare sin da allora tre categorie principali di dispositivi i quantified self che sono oggetti che sono stati progettati per essere portati dall'utente stesso come ad esempio i braccialetti i braccialetti per il zona per monitorare i passi oppure wearable computing ossia occhiali che possono contenere all'interno dei sensori oppure anche orologi stessi e infine abbiamo dispositivi che rientrano nell'ambito e nell'ambiente della domotica quindi frigoriferi forni intelligenti impianti di areazione intelligenti e tutti questi hanno diciamo la peculiarità di essere dispositivi che sfruttano un determinato elemento che è quello di connessione alla rete Internet al fine di interconnettersi mediante anche l'utilizzo di sensori e andare a scambiarsi delle informazioni informazioni ovviamente di chi? dell'utente finale io utente ad esempio nei momenti in cui sto ascoltando la mia canzone sullo smartphone nei momenti in cui entro in macchina mi aspetto che questa playlist continui perché? perché ho utilizzato il mio dispositivo la macchina utilizza dei sensori e dei dispositivi tipici dell'Internet of Things così come nei momenti in cui mi trovo ancora in ufficio devo fare la spesa non so in che condizioni sia il mio frigorifero nel mio caso spesso vuoto però magari qualcuno ha indeciso sul fatto che sia finito il latte piuttosto che le uova e a quel punto mi connesso tramite l'applicazione che si connette a sua volta al frigorifero oppure ricevo direttamente delle notifiche push al frigorifero che mi avverte guarda sta finendo il latte quindi sono tutti strumenti di studio delle abitudini dell'utente stesso sono strumenti che permettono l'alimentazione di informazioni attraverso l'interazione con l'utente stesso interazione che permette quindi lo studio dell'abitudine dell'utente lato produttore aiuta a sviluppare quelle che sono attraverso attività statistica e di analisi quelle che sono le prestazioni effettivamente dei miei dispositivi ma ci sono anche terzi che possono accedere a questi dati sono i terzi che magari sono partner ad esempio non so l'attività il terzo partner che mi va a inviare un'email nel momento in cui io ho finito il latte mi arriva l'offerta per quella determinata marca di latte perché appunto ho un rapporto di partnership con l'azienda produttrice del frigorifero e di conseguenza io ho dato il consenso alla comunicazione a terzi per finalità di marketing così come appunto magari ormai abbiamo fatto amicizia quasi tutti con i nostri assistenti virtuali in questo periodo c'è chi è da solo in casa sta facendo amicizia con Google con Siri con Alexa si stanno imparando a conoscere pian piano però è anche curioso vedere come man mano che aumentano e passano i giorni la Alexa la Siri di turno è in grado anche di dirti senza neanche avvisarla ehi buongiorno fuori c'è il sole ti consiglio di metterti determinato tipo di abbigliamento studiato in base a quelle che sono le informazioni ottenute attraverso la connessione all'internet riguardo la situazione meteorologica o anche i miei stessi interessi perché io magari un giorno parlando gli ho detto guarda a me piace questo tipo di look piuttosto che un altro quindi sono tutte opportunità tutte informazioni che sicuramente è l'utente stesso a dare l'utente stesso ad autorizzare ed è importante che venga messo nelle condizioni di poter prestare effettivamente questi consensi e queste autorizzazioni ok al di là dell'utilizzo di assistenti virtuali dell'amicizia che stiamo coltivando in questo periodo come altro è possibile lato azienda lato esercizio commerciale sfruttare questo periodo sicuramente una parte di attività che stanno soffrendo molto sono quelle che offrono un commercio al dettaglio che non sia di beni di prima necessità ma anche la ristorazione diciamo ha chiuso al pubblico e ha permesso per la ristorazione la possibilità di effettuare solamente consegne a domicilio qualora gli siano i requisiti di conseguenza come faccio io ad attrezzarmi adesso vediamo che alcuni effettivamente stanno aguzzando l'insegno anche in base a quelle che sono le disponibilità tecnologiche del caso magari in questo caso qualcuno riconoscerà il personaggio presente sullo sfondo si tratta in ogni caso di una di una catena di ristorazione non vegana assolutamente no offre un tipo di ristorazione con prodotti di carne tendenzialmente però vediamo come sta sfruttando questo periodo di isolamento e di quarantena per andare a sfruttare delle nuove tecnologie in questo caso parliamo di droni utilizzati per effettuare consegne a domicilio quindi in questo caso si va ad abbattere il contatto umano che si avrebbe comunque nel caso di utilizzo di dipendenti propri o di terzi di aziende di delivery si va ad assicurare comunque una continuità della produzione un'efficienza in termini temporali non che comunque in questo caso avrebbero trovato del traffico perché comunque traffico per le strade non ce n'è però comunque dei tempisti che vengono battute anche sotto questo profilo ovviamente importante è adottare misure di tutela della protezione dei dati personali ma non solo andare a rafforzare anche tra i sistemi perché spesso questi droni questi dispositivi intelligenti ovviamente fanno parte di un'infrastruttura di sistema quindi non bisogna assolutamente valutare sottovalutare anche gli aspetti di cyber security e di sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche adottate dal titolare e dall'azienda ovviamente anche tutte le accortezze del caso perché spesso sappiamo che i droni magari utilizzano dei sistemi di videoregistrazione integrata vuoi per motivi assicurativi vuoi per motivi di tutela della stessa insomma azienda però ovviamente andando ad applicare delle accortezze è possibile andare ad assicurare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie una business continuity anche in tempi di isolamento e di quarantena chiedo scusa se mi sono dilongata leggermente a questo punto ripasso la parola all'avvocato Martini grazie Valeria sei stata molto esaustiva devo dire ci hai spiegato benissimo benissimo tutto è stato davvero interessante ecco io allora proseguo nella condivisione delle slide e passiamo assolutamente la parola a Nadia Martini per l'ultima parte va benissimo e grazie sia a Caterina che a Valeria per questo escursus che credo ha determinato fondamentalmente un interesse sicuramente da parte del business e da parte di tutti noi molti sono gli aspetti che abbiamo visto e che dobbiamo a questo punto provare ad implementare a far cadere a terra e in questa ultima parte di chiacchierata vedrò chiaramente di non tenerla troppo lunga faremo in modo di darvi soltanto degli elementi e poi ne potremo discutere sia nei prossimi webinar sia chiaramente a parte insieme ora le colleghe ci hanno insegnato che per poter strutturare un'attività di profilazione e un'attività di marketing buona bisogna mettere in piedi tutti gli elementi per poterla realizzare a pieno elementi che lato privacy sono in particolare riassunti nella slide che vi propongo quindi quello che il titolare è il responsabile del trattamento quello che le nostre aziende devono andare a fare è realizzare innanzitutto una checklist di accountability così che ce la chiede e che ce la presenta il garante privacy durante le svariate ispezioni che ci sono state l'anno scorso come quest'anno ci chiede una lista dei nostri punti di controllo quindi il vostro DPO dovrà avere in piedi e in mano questi strumenti dove per un caso non doveste averlo nominato chiaramente dovrete farlo voi direttamente con la funzione deputata all'attività oltre a questo è necessario anche raccogliere e tenere aggiornate tutte le evidenze che comprovino il buon esercizio dell'attività di marketing e di profilazione che avete messo in piedi cosicché riusciate a gestire appieno le ispezioni o le richieste dei fornitori degli interessati e dei vari partner inoltre sarà necessario dare evidenza chiaramente della implementazione corretta di queste misure e della effettiva realizzazione di un'attività di monitoraggio andiamo a vedere a carrellata questi aspetti per comprendere anzitutto come si costruisce una checklist di accountability su questo le indicazioni ci vengono dalle ispezioni dell'autorità dello scorso anno e di quest'anno che ci suggerisce in primo luogo di andare a documentare in una maniera corretta l'attività di assessment quindi il primo punto che troviamo anche la slide successiva è centralizzato sull'attività di assessment di analisi di rischio di analisi di impatto che dovrò documentare occhio lo dico per esperienza in questi anni di attività che l'attività di assessment viene spesso considerata un peso o un limite ma è quella come ci diceva chiaramente la collega specchio che ci permette il corretto design della soluzione se quindi non ho effettuato una buona valutazione della mia situazione non mi sono fatte le domande giuste e non ho documentato di essermi dato delle risposte adeguate non potrò chiaramente dimostrare di aver scelto una certa soluzione di e-commerce piuttosto che un'altra soluzione di Apple Mobile quindi è fondamentale e vedremo come la documentazione dell'attività di assessment a questo si aggiunge l'attività di rimedio un'attività fondamentale che dovrò andare a declinare nella mia checklist a seconda dell'attività che devo andare a documentare quindi in primo luogo l'organizzazione della società è fondamentale e per l'attività di marketing e di profilazione dovrò avere individuato i responsabili interni i referenti aziendali le figure autorizzate nella mia organizzazione o fuori dalla mia organizzazione che partecipino all'attività di marketing e di profilazione dovrò andare a chiaramente definire nella checklist la informativa che vado a derogare il consenso che vado a chiedere dovrò anche dare atto dei registri del trattamento nonché di tutte le misure tecnico ed organizzative che andremo a vedere nel dettaglio che potrò andare ad adottare al fine di corroborare la checklist stessa andando al secondo step quello riferito alle evidenze quindi passando alle slide successive andremo a concentrarci in particolar modo su quello che sono le attività che devo svolgere nell'attività e nell'area dell'assessment quindi siamo al secondo step della nostra attività uno step primario e fondamentale per quanto riguarda la attività di marketing e di profilazione quindi con riguardo specifico all'attività di assessment cosa devo fare per stare a posto e sto andando quindi alle slide dedicate all'articolo 3536.42 per Marta che ci sta aiutando in questo discorso quindi cosa faccio io titolare del trattamento quando pongo in essere un'attività di marketing e profilazione non dimentico la valutazione di rischio non dimentico la valutazione di impatto quindi quello che materialmente andrò a fare è senz'altro un'attività di mappatura faccio una mappatura di quali dati mi servono per lo scopo e lo so care aziende all'ascolto che questo per voi è un'attività complessa ed è complessa perché spesso il nostro business purtroppo non ce le dice le cose dobbiamo investigarle a volte siamo noi un po' degli strumenti di rallentamento dell'attività o meglio veniamo percepiti così ma così non è perché attraverso una mappatura corretta andiamo ad individuare i trattamenti andiamo a individuare le misure adeguate andiamo a comprendere i rischi e questo ci permette di andare a determinare delle soluzioni corrette la soluzione corretta che vediamo alle slide successive è una soluzione che ci permette di avere un risparmio economico perché andremo a disegnare dal primo momento e non dall'ultimo un'attività corretta in ambito privacy e quindi andremo senz'altro dopo questa prima analisi ad effettuare una valutazione di impatto e di rischio laddove abbiamo e ci siamo trovati in un contesto di impatto sulle libertà individuali quindi in primis sempre e comunque per ogni trattamento di marketing e profilazione andremo a fare una valutazione di rischio per tutti i trattamenti vedremo quindi se vi è una violazione di dati personali in secundis andremo ad esaminare in particolar modo i requisiti per una valutazione di impatto l'informazione per voi da tenere cara a mio avviso è che la valutazione di impatto per ogni trattamento di marketing digitale e di profilazione come ce l'ha descritto la collega richiede la valutazione di impatto e la richiede in virtù di quel working party del 2017 attualizzato 2018 e della ISO 29134 che ci dicono se ti trovi in due delle situazioni della precedente slide in questo caso devi necessariamente andare a svolgere un'attività di impatto le situazioni che ci portano in particolare a effettuare una valutazione di impatto sono anzitutto la profilazione inoltre le decisioni automatizzate il monitoraggio sistematico e costante il trattamento di dati particolari o di dati sull'arca scala e i trattamenti di dati vulnerabili capirete come queste siano le caratteristiche tipiche di un'attività marketing digitale che spesso è sfruttata per esempio da un minore o da una persona vulnerabile un paziente piuttosto che nelle attività di profilazione dove gli strumenti digitali dall'assistente elettronico piuttosto che le app piuttosto che i giochi online possono essere sfruttati utilizzati anche dai minori in questi casi di conseguenza andrò a svolgere una valutazione di impatto e a reportizzarla per la reportistica sappiamo che tanti sono i tool sul mercato che potrete utilizzare l'importante e che andiate a documentare nel dettaglio l'attività di rischio l'attività di impatto effettuata la matrice di rischio impatto utilizzata e terrorata sulla base della vostra situazione quindi mi raccomando di disegnare col vostro dpo una matrice di rischio impatto specifica e declinata per voi che non sia quindi una soluzione a stampone come spesso si vede e altra ciò andremo ad adottare e a individuare in valutazione di impatto le misure adeguate da adottare per poter proteggere quel determinato trattamento necessario sarà se il dpo è stato nominato anche un parere del dpo riguardo che sarà in favore o meno del svolgimento dell'attività e dettaglierà anche le misure aggiuntive il terzo step dell'attività che dobbiamo andare a tenere in conto quando vogliamo buttare a terra le attività di marketing e profilazione è poi la individuazione delle misure adeguate su questo le colleghe hanno speso molte parole io ne dico soltanto poche invitandovi a concentrarvi sulle misure senz'altro indispensabili per questa attività misure che vediamo le slide successive in cui ci concentriamo in particolare sulla individuazione dell'owner sollecito questo punto spessissimo capita che si avvino progetti senza un responsabile di business un responsabile di business che dovrà rispondere anche dei trattamenti di dati personali oltre a ciò sono importanti le informative consensi le procedure e tra queste la procedura di data breach gestione terze parti privacy by design e data retention la fanno da padrone l'informazione che vi do sulla data retention è che dobbiamo ricordarci che la conservazione dei dati per fini marketing e profilazione non è mi spiace eterna quindi dobbiamo fare in modo di individuare un tempo che sia corretto e adeguato per noi dobbiamo giustificarlo sulla base per esempio della periodicità del nostro business oppure sulla periodicità e le caratteristiche della nostra attività e così tutti gli elementi soggettivi o oggettivi del nostro mercato che possono venire a rilievo qui il lavoro del vostro DPO comunque della vostra consulente sarà fondamentale e andando di conseguenza a concludere la nostra attività passo quindi direttamente allo step 4 per lasciare poi il tempo alla interazione con voi alle vostre domande il momento finale di questa messa a terra delle soluzioni consiste nell'attività di monitoraggio questa spesso è stata bypassata io direi nell'ultimo anno dalle realtà e questo per il semplice fatto che ci siamo concentrati tutti sull'attività di assessment se vogliamo nel 2017 e l'attività di rimedio nel 2018 nel 2019 abbiamo fatto l'implementazione è arrivata ora la fase di monitoraggio un monitoraggio che dobbiamo necessariamente porre in essere al fine di garantire che siano effettive queste soluzioni perché io posso fare anche l'informativa più bella del mondo ma se per un istante non dovesse rappresentare la data retention tecnica sistema in un sistema di commerce allora un problema e quindi ecco che le attività di monitoraggio debbono essere effettuate da parte del titolare con l'aiuto delle sue funzioni funzioni DPO per esempio funzioni internal audit funzioni cyber security ricordiamoci infatti che il DPO va sempre e così il titolare aiutato da parte della funzione cyber security che permette l'analisi a sistema e perché? perché quando andiamo a individuare attività di marketing e profilazione le misure tecniche sono fondamentali quindi il DPO non deve solo controllare e monitorare periodicamente sulla base di un piano di monitoraggio che avrà concordato col board le attività di registro del trattamento le valutazioni di fatto la loro efficacia ed effettività dovrà guardare anche le procedure il loro corretto funzionamento i ruoli aziendali ma dovrà pure concentrarsi sulla corretta caduta a terra a sistema dei suoi requisiti se quindi ha requisitato l'adozione di un consenso di marketing un DPO dovrà e così il titolare verificare che questo consenso di marketing sia correttamente implementato storicizzato e informato a sistema e vi assicuro non è sempre così e proprio per questo il DPO dovrà crearsi un piano d'azione un team di supporto comprensivo delle fudure tecniche che chiaramente dovrà supportarlo in questa attività se per un caso le vostre aziende non avessero il DPO chiaramente dovrà questa attività essere svolta da un'altra funzione ma vediamo il DPO ultime parole per lasciare poi spazio a voi chi è e quando deve essere nominato la prendo dalla fine deve essere nominato se facciamo marketing e profilazione in una maniera organizzata in una maniera non occasionale quindi tutto quello che noi abbiamo raccontato oggi non può essere svolto se non in una maniera occasionale da parte di un'azienda che non abbia un Data Protection Officer in italiano un responsabile per la protezione dei dati quindi attenzione a che le vostre realtà abbiano adeguatamente individuato questa funzione interna esterna dell'azienda che potrà dare il supporto adeguato il DPO verrà quindi nominato necessariamente in tutte le attività di dicevamo profiling attraverso tool come per esempio il CRM l'e-commerce i cookies di cui hanno parlato le colleghe il marketing per esempio il marketing analitico lo scoring anche di natura comportamentale senz'altro le attività che richiedono ancora la designazione di un DPO possono annoverarsi tra la geolocalizzazione i programmi di fidelity l'OBA l'online behavioral advertising e via dicendo tutti strumenti che quindi necessitano di un DPO che possa aiutarvi e possa suggerire l'attività da svolgere e per completare la nostra chiacchierata credo che oggi ci siamo sufficientemente dedicati all'analisi di quello che può essere un buono strumento di marketing e profilazione un buono strumento che se l'avevate già fatto può senz'altro aiutarvi nell'attività e nella situazione di crisi attuale se non l'avete già fatto può essere senz'altro un'opportunità di miglioramento io concluderei quindi qui per non lasciare tempo ultronimo diciamo a questa chiacchierata ma lasciare dello spazio a voi per i vostri quesiti e vi ringrazio anche a nome delle colleghe perfetto Nadia grazie mille veramente avete fatto una panoramica esaustiva direi e davvero davvero dettagliata sollevando anche alcune curiosità da parte da parte del nostro pubblico allora io adesso vediamo se riesco a vedervi anche a salutarvi proviamo se se funziona la mia la mia connessione eccoci qua allora parte partiamo con appunto alcune minuti per cercare di rispondere dunque si parlava inizialmente con delle fanpage su facebook e quindi ci chiedono il social e l'azienda sono join controller dei dati presenti su queste fanpage ora invito le colleghe a rispondere non so se vuole risponderci Caterina visto che era inerente alla sua parte e ritornare un attimo su questo punto ho sentito Caterina non so se non la sento più non la sento neanch'io non ti sentiamo più mi sentite eccola qua eccoci allora oggi zoom evidentemente ha un po' di perfetto ok ce l'abbiamo fatta allora sì la domanda è molto interessante è stata oggetto diciamo recentemente di sviluppi anche in sede europea possiamo dire che questi sviluppi in sede europea sono un po' risolutivi per il momento nel senso che queste sono le indicazioni un cenno giusto alla tematica sorta in Germania dove la Wirtschafts economy è un ente che ha creato una fanpage su facebook e ha utilizzato questo strumento qualificandosi fin da subito non non rilevante in termini privacy per cui si è detto assolutamente non essere titolare né in qualche modo coinvolto nel trattamento dei dati perché perché attraverso facebook insights è consentito sì al gestore della pagina in questo caso proprio Wirtschafts economy di ricevere dei dati statistici sull'attività inerente alla fanpage ma anonimi e gestiti da facebook che imposta l'attività ebbene dopo una serie di rimbalzi interni nazionali proprio in Germania quindi nell'ambito del land di riferimento Schleswig-Holstein si è arrivati all'ultimo diciamo voce in capitolo proprio della Corte di Giustizia che ha ribaltato lo sviluppo proprio ultimo in sede nazionale e ha affermato che non si può dire che il gestore di una pagina non abbia alcuna influenza sulla gestione del trattamento dei dati sul social network questo perché perché la pagina è creata comunque dal gestore dal titolare che ne imposta anche un po' i parametri di conseguenza sia il social sia il titolare del trattamento quindi l'azienda sono da considerare titolari in questo caso con titolari del trattamento e questa informazione deve risultare dalle risposte rispettive informative quindi questo è stato uno sviluppo interessante che sicuramente ci dà degli elementi delle indicazioni su come muovere la nostra attività anche attraverso le fan page dei social network che in generale anche direi proprio all'interno dei social network cioè il fatto che il social gestisca l'attività a livello tecnologico non esime necessariamente la non esclude necessariamente una responsabilità una titolarità in questo caso del trattamento quindi vedo che c'è anche una seconda domanda adesso spero di essere stata esauriente e se avete degli altri assolutamente cate grazie mille intanto ho approfittato visto che i nostri video non ci reggono per vedere anche il tuo profilo comunque ribadisco appunto poi invieremo le slide dove troverete anche tutti i contatti dei relatori di oggi io farei questa ultima domanda che ci è appena arrivata prima di chiudere di salutare insomma chi ha partecipato allora ci chiedono come azienda non facciamo profilazione o meglio la facciamo solo marginalmente ma ospitiamo su server dati dei clienti abbiamo nominato comunque un DPO abbiamo fatto bene oppure nel nostro caso era una scelta che non era necessario fare quindi torniamo su uno degli ultimi punti che è stato trattato da Nadia quello appunto della figura del DPO quando serve quando è obbligatoria perfetto entro magari io su questa risposta direttamente allora innanzitutto bisognerebbe vedere tutte le attività di trattamento che fate non soltanto quelle di profilazione quindi non soltanto quelle di profilazione impongono l'obbligo di nominare di un DPO ma magari state trattando dati su larga scala di soggetti per esempio in ambito della videosorveglianza per esempio questo può essere un trattamento che lo evochi oppure siete nel mondo della telemedicina o quant'altro non vedo il nome del partecipante quindi non so magari vuole spiegarci precisarci in commento qual è la sua area aziendale in ogni caso in genere si guardano tutti i trattamenti e questo in genere ha l'obbligo o meno della DPO nel vostro caso ci dite che non fate profilazione ma ospitate su server dati dei clienti anche qui lo fate come service provider con riguardo a quali trattamenti dei dati dei clienti questo dà una risposta ipotizziamo per un istante che l'attività che fate in service provider non sia e non necessiti di alcuna nomina del DPO allora in questo caso potremmo sostenere che non fosse necessario ma comunque il garante lo considera sempre un'ottima misura quindi sicuramente se vi dovesse trovare in una situazione di disallineamento dalla norma ma avesse comunque un DPO questi potrebbe aiutarvi sia nel contenimento di eventuali sanzioni sia nella negoziazione con l'autorità sia nelle individuazioni delle migliori per risposte di dettaglio vedo ci occupiamo esatto grazie mille della precisazione di data center e cloud quello sicuramente è un'attività che vi obbliga alla nomina del DPO perché ricordiamo che la nomina non è soltanto di un titolare del trattamento ma anche del responsabile del trattamento che dovesse trovarsi in certe circostanze poi nel caso concreto servirebbe ma suppongo che voi l'avete già fatto un piccolo assessment per vedere se vi ritroviate in una situazione di obbligatorietà e dovrete aver documentato la scelta o la non scelta del DPO proprio sulla base della vostra situazione di rischio quindi il mio suggerimento è fare un recheck comunque nel più sta al meno quindi la designazione del DPO è una buonissima cosa e suggerisco di documentare il perché della scelta questa è una verifica che l'autorità garante fa quasi immediatamente all'ingresso in azienda quando fanno un'ispezione spero di aver risposto benissimo Nadia ti ringrazio allora io vedo che stanno arrivando alcune altre domande un po' più diciamo dettagliate che richiedono un'analisi diciamo un pochino più specifica caso per caso per cui non me ne vogliano i partecipanti ma sarà nostra cura contattarli subito alla fine di questo di questo seminario in modo da approfondire insomma nel modo migliore le esigenze che stanno che stanno emergendo proprio in questo momento a seguito di questo dialogo noi siamo arrivati al termine del nostro webinar quindi io approfitto per ringraziare tutti quanti i partecipanti per ringraziare le nostre relatrici che ci hanno fatto questa panoramica davvero molto molto precisa molto esaustiva quest'oggi e anche in conclusione per invitare tutti a seguire sui nostri social e sul nostro sito la pagina dedicata proprio ai webinar e agli eventi e vi aspettiamo se vi andrà domani oppure giovedì con i prossimi appuntamenti che abbiamo in calendario quindi ringrazio tutti e ci sentiamo e ci connettiamo alla prossima occasione grazie a tutti grazie a tutti grazie arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti